Trentunesima edizione delle giornate europee del patrimonio. Sabato 20 settembre Pescara aderisce a tutte le grandi città d'arte e lascia aperti i suoi musei fino a tardanotte per offrire a tutti, ma proprio a tutti, spettacoli, cultura, emozioni e atmosfere da vivere. Museo di Cascella, Aurum, Museo delle Genti d'Abruzzo, tutti pronti ad ospitare la notte delle città d'arte. Abbiamo pensato quindi di lasciare aperti i musei e le strutture comunali fino a mezzanotte e riempire di iniziative che possono farli vivere da ogni generazione nelle varie fasi della giornata. Abbiamo da spettacoli, abbiamo un concerto di arpa classica al Museo Cascella, presentazione di libri, un'iniziativa molto interessante di un docufilm sulle periferie di Pescara e sull'arte nelle periferie a Aurum, una serie di mostre che sono in corso al Museo di Gentile d'Abruzzo, il vernissaggio di una mostra fotografica, insomma tantissime iniziative di cui abbiamo un programma che stiamo mettendo anche online e chi vuole farsi un bel viaggio, una bella serata e pomeriggio dentro la cultura, l'arte e la musica può seguire questo percorso della notte dei musei. Mostre fotografiche, un cortometraggio sulle periferie, concerti di arpa, presentazioni di libri e il fascino della notte da vivere nelle atmosfere rare dell'arte e della cultura. In qualunque museo della città sono provvisti con il programma per qualunque altro museo, tutti facilmente raggiungibili, tutti ingresso gratuito, per tutti i gusti.